la casa di glizia oggi si è trasformata in discoteca e sia gabriele che nina l'hanno invitata al disco party c'è ninni dove disco party ma vengo arrivo arrivo fuori a capiccione dice quello perché c'è pure il mio cuore lì gabriele balli si o no ballano tutti compreso paolo ma a un certo punto gabriele non vuole più ballare chissà come mai buon divertimento ciao 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 ciao